La neve sulle montagne è già arrivata, ma adesso, archiviato il Capodanno, arriva il maltempo, o meglio il gran freddo in tutta Italia ed anche al sud e nello specifico in Calabria. Un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa, infatti, interesserà la nostra penisola con caldo le temperature e precipitazioni nevose fino a bassa quota, previsti venti forti di prima sulle regioni settentrionali che si estenderanno poi fino alla Calabria. Si prevedono inoltre mareggiate lungo le coste. Per quanto concerne la neve potrebbe arrivare fino al livello del mare nell'Italia centrale, mentre al sud i fiocchi bianchi non dovrebbero arrivare fin sulla spiaggia, ma a quote decisamente superiori. Dunque, un inizio del 2019 all'insegna del gran freddo, circostanza questa che non può che rendere felici gli amanti degli sport invernali e più in generale della neve.